E' maciurata anche me la sabbia ma fa un cuore Allora? 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 Grazie a tutti più che io che guido è la moto che va e mi porta perché decide un po' lei dove cacchio andare che carossa oh e Grazie a tutti. 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 Saluti, buona giornata. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.